Salve a tutti, sono di ritorno dal concerto dei Coldplay a Torino, la strada è ancora lunga e sono leggermente assonnata, ma voglio dire una cosa con le ultime energie rimaste, sì perché ci tengo tantissimo a ringraziare questa cara fanciulla. Perché poveretta, nonostante tutte le sue due intenzioni, non è proprio riuscita a togliersi uno dei suoi quattro, e dico quattro, braccialetti luminosi, per farne omaggio a una povera sfigata rimasta senza all'ingresso, ricordo che erano gratis, non sconderò mai le sue dolci parole, no. D'altra parte, la musica è condivisione, ma si sa in tempi di crisi, e ringrazio invece l'amica, davvero, che avrebbe potuto illudermi con il suo braccivetto extra che però era rotto, ma ha avuto il buon cuore di non farlo. Vi prego, ridatemi fiducia nel mondo, ditemi che mi sareste comportati diversamente, o avreste privato una persona di questo. Vi prego, ridatemi fiducia nel mondo, ditemi fiducia nel mondo, ditemi fiducia nel mondo, ditemi fiducia nel mondo. Ciao, ciao.